Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è My Mind Me e il documentario, in arrivo su Apple TV più visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, che fornirà un racconto inedito della vita di Serena Gomez, una delle celebrity più amate a livello internazionale. La cantante, modella e attrice ha appena pubblicato il trailer della pellicola sul profilo Instagram che conta oltre 346. 000.000 di follower che lo rendono il quinto account più seguito al mondo dopo quello di Instagram, Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner e Lionel Messi. My Mind Me, il trailer.Nei giorni scorsi Deadline ha rivelato che My Mind Me sarà presentato il 2 novembre alla 36esima edizione della FiFest. Come riportato dal magazine, il regista Alex Shishan ha raccontato, volevo mostrare qualcosa di più autentico e Selena voleva fare la stessa cosa. Lei ha una vulnerabilità cruda che mi ha catturato. Non avevo idea che sarebbe divenuto un lavoro d'amore di 6 anni. Ora Selena Gomez ha pubblicato il trailer mostrando alcune immagini del lavoro. La popstar ha anche scritto un breve messaggio al pubblico, alcune volte non andiamo d'accordo e diventa difficile respirare. Ma non cambierei la mia vita. Infine, la cantante ha rivelato che My Mind Me farà il suo arrivo su Apple TV più visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, il 4 novembre. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.